Quest'anno si è verificata una situazione senza precedenti. Non solo entro il 31 marzo la Regione non ha dato le linee guida su come è possibile utilizzare i propri fondi ai comuni, che quindi sono stati lasciati allo sbando, ma per la prima volta i comuni sono stati messi in difficoltà con un problema che non avevano mai avuto, perché la Regione non ha messo un solo euro del proprio bilancio, neanche uno, ma ha trasferito solo risorse del Fondo Sociale Europeo. Senza sapere però che queste risorse sono vincolate a determinati scopi, ad esempio dei voucher, dei voucher per gli sconti nelle rette, che attualmente nel nostro territorio e in Italia sono quasi inutili, visto che c'è già il bonus IMSS fino a 35.000-40.000 euro di ISEE. Quindi i voucher della Regione sarebbero serviti solo per le famiglie più ricche, più abbienti. Invece ai comuni servivano soldi da utilizzare, ad esempio per l'assunzione di personale, per il prolungamento dell'orario e quindi per aumentare i posti nei nidi. Da gennaio che chiedo con atti ispettivi ufficiali in Consiglio regionale e non ho avuto risposta nemmeno all'ennesima interrogazione andata in aula il 9 luglio. Ora vi do un aggiornamento perché per le vie brevi ho saputo che tra qualche giorno la Regione probabilmente risponderà e autorizzerà l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo anche per scopi diversi, ad esempio dai voucher. Bene, ma la situazione rimane grave perché questo ritardo accumulato di otto mesi, perché io la domanda la faccio da gennaio, ha messo i comuni in difficoltà e quindi nei casi più impegnativi e pesanti come Pesaro è impossibile assumere altro personale o prolungare l'orario laddove insomma fino ad oggi non sono stati messi in condizioni di programmare.